Sei sigle sindacali su sette non si sono presentate al confronto finalizzato all'erogazione delle incentivazioni e al personale dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa. CGL, UIL, USAE, FIALS, UGL e NURSIND contestano il mancato rinnovo dell'OIV, Organismo Indipendente di Valutazione, che deve pronunciarsi sulla congruità di queste erogazioni che hanno il valore di un premio di risultato. Solo la CIS l'ha detto sì, alla base del rifiuto alla contestazione della violazione degli appositi regolamenti. esterno di valutazione e che serve a controllare la performance dei vari reparti, delle varie unità operative all'interno dell'azienda, cui viene proposto tutto il fatturato, diciamo così in termine molto industriale, delle varie unità operative. E effettivamente dopo aver valutato, di solito sono delle valutazioni che si fanno nel giro di 3-4 mesi a secondo, perché la commissione si riunisce più volte. La vecchia OIV, il vecchio organismo che doveva regolare queste cose, scaduto il 31 dicembre del 2017, doveva essere rinnovato con altri dottori commercialisti, che sono tre, e invece nonostante le richieste dell'azienda, noi abbiamo un contratto per il comparto che è separato quello dalla dirigenza e ci sono anche dei regolamenti che abbiamo sottoscritto e firmato con queste aziende. Abbiamo chiesto per tempo che venisse nominato questo organismo indipendente. Abbiamo chiesto nel mese di ottobre, vista la situazione e che ormai si capisce che non sarebbe... Dateci almeno un altro acconto, trattiamo su questo secondo acconto che non è previsto al regolamento, troviamo una soluzione. Al che non c'è stato risposto nulla?